Ciao a tutti e ben ritornati sul mio mondo come potete vedere sono tornata nel mondo di mini world ho cambiato anche la skin, fa così tanto caldo che ho deciso di mettere una tenuta estiva come potete vedere alle mie spalle c'è una planimetria di una casa perché ho deciso insieme a voi oggi di costruire finalmente la nostra casa sul mondo di mini world ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti eccoci qua io qui ho realizzato una piccola casina proprio per ripararci dai mostri ed evitare che ci uccidano durante la creazione della casa vi anticipo che la casa o andrà realizzata in loop oppure vedete qui nella cassa ho tutti i materiali per iniziare oppure verrà divisa in più episodi perché il progetto non è grandissimo ma neanche piccolo poi comunque saremo sicuramente ma sottolineo proprio sicuramente interrotti dai mostri e dalla notte e quindi uovi creeper sicuro non mancheranno e quindi rallenteremo il nostro lavoro ecco allora iniziamo a fare così a alzare le mura almeno da ehm... poi iniziamo così poi vediamo però iniziamo ad alzare le mura per evitare che ci spawnino all'interno del nostro ehm casa i vostri e così poter trasportare tutto dalla base che ho fatto a diciamo alla cassa già la cassa già ecco qua chiedo scusa se è da un po' che non porto più mini world ma tra problemi che sono sorti in un aggiornamento e varie altre situazioni ho accantonato un po' come in world anche come avete potuto notare perché ho cercato di portare altri tipi di ehm giochi sul mondo sul nostro canale voi come sempre nei commenti fatemi sapere se ehm vi piace il mondo di mini world oppure vorreste vedere altri ehm video inerenti proprio diciamo a questo settore intanto vi ricordo anche di iscrivervi al canale, attivare la campanella e eh lasciare un messaggio se vi fa piacere e mettere un like per sostenerci il progetto praticamente è realizzare una casa abbastanza piccola non troppo eh grande e eh naturalmente non voglio abbandonare il come si chiama il la prima base che abbiamo fatto all'interno di questo mondo ci tengo troppo e quindi ho deciso di non ehm di non abbandonarla ma di usarla come deposito e quindi di ehm diciamo renderla proprio come nostro deposito dove mettiamo tutte le nostre armi ehm come posso dire i nostri possedimenti vai le nostre ricchezze ecco non mi veniva il termine le nostre ricchezze intanto io come sempre lavoro sotto la pioggia perché qui a mini world piove sempre mi sa che ho dimenticato eh ho dimenticato di togliere la pietra ora farò una magia spero che ce la faremo con i materiali io veramente ho ne ho raccolti molti e quindi penso e credo di farcela ho diviso già in sezioni le stanze vedete ho preso altro materiale sì ho preso il pavimento quindi iniziamo anche a merterci il pavimento e così iniziamo a stabilire già le sezioni poi sempre raccoliamo i materiali mh ho sempre paura che mi spawni alle spalle un creeper quindi in questo caso direi di entrare nella nostra casina d'anti creeper chiamiamola così e eh di eh chiudersi dentro e realizzare tutti i materiali per eh fare proprio mh tutte le mura della casa e quindi sentirsi più sicure ecco qua sto caricando altri materiali li avevo perché ho sempre il terrore veramente che mi spawni dietro un creeper e mi distrugge il lavoro noi iniziamo a dare delle mura alte evitare che loro arrivino poi eh entrino all'interno della casa e poi dopo stabiliamo come vogliamo renderla la casa se un po' rialzata se con un pavimento abbastanza basso dove stabiliamo i dettagli lo so che non dovrebbe essere fatto così però non ce l'ho e quindi lo faccio con questo fatemi sapere nei commenti se vi è proprio mancato il mondo di mini world che non portavo da un po di tempo oppure non mi interessa proprio questa tipologia di gioco allora così così qua veniva la porta che io ho prontamente chiuso ecco qua vedete ci disturbano i mostri vieni 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 che ci uccido mi serve un po di energia grazie allora stavamo dicendo sono indecisa se fare la scala e quindi rialzarlo oppure no ho un po di indecisione se fare per esempio arriva di qua salire la scala no io direi di no direi di far partire il pavimento da qui quindi come sempre ho sbagliato qui il progetto vi ripeto non è molto molto grande però non è neanche molto molto piccolo quindi una via di mezzo che non va in un video ne sono sicura però rischieremo man mano a farlo insieme e dar vita a questo piccolo mondo di mini world io mi ero già più o meno creata gli spazi che mi servissero proprio perché praticamente stabilire un poco la grandezza della casa ovviamente ma anche perché era una montagna un po così un po non molto stabile e quindi ho deciso di rimodellarla un po per rendere possibile la nostra casa realzata sulla montagna non ho mai fatto una casa realzata sulla montagna mi ispirava e quindi ho deciso di portarla qui ci serve il legno aspettate ci serve il legno scuro cioè chiaro e quindi conviene fare così intanto vedo che sta arrivando un bel mostriciattolo un boogie boogie che ci vuole ammazzare io può mettere un po di luci perché ovviamente alzando tenderà a scurire anche la casa e quindi tenderò a mettere delle torce nel frattempo boogie boogie non ci vedeva più vedete qui per esempio ho pensato di mettere del vetro per illuminare la casa ciao boogie boogie lo so che state arrivando a ne so pure due quindi andiamo ad attaccarli noi e a uccidere lui benissimo allora diciamo la base è più o meno stabilita qui deve venire un'altra cosa e quindi non per adesso non ce ne curiamo allora vado a prendere il legno chiaro perché se non metto il legno chiaro non riesco un po a rendermi conto intanto sperando questa maledettissima pioggia passi non mi riesco a rendere conto un po di come piazzare le cose allora prendiamo il legno chiaro e le finestre poi facciamo gli interni allora mettiamo legno chiaro qua e facciamo le finestre qua mannaggia perché tende a piovere sempre mi ero dimenticata la parte avanti grazie finalmente allora vendiamo il legno chiaro facciamo la mia idea sarebbe fare 1 2 3 e 4 poi andare fuori casa piazzare una qua una qua secondo me dobbiamo fargli gli scalini mi sa che facendo così gli scalini ci vorrà che qua facciamo le fioriere qui sotto e quindi con i fiori alti e quindi mi sa che ci vuole gli scalini poi stabiliamo un poco dopo allora mettiamo finestra finestra riuscirò a piazzarla sopra no prendiamo il legno poi magari ecco qua bianco piazziamo un altro qua un altro qua un'altra finestra un mamma piazzo o sapevo ecco qua allora lasciala dovremmo prendere perché le finestre sarà molto complicato da da piazzare lo so però già in linea generale sta prendendo forma la casina ciao ti prendo tra poco perché vorrei chiudere un attimo almeno il primo lato 2 1 e 2 mettiamo il legno ai lati riesco a piazzarlo no sono caduta bravo voi vero avete dimenticate la mia goffaggine allora fatemi vedere ce l'ho un'ascia dentro al deposito si vale pochissimo però ce l'ho allora mettiamoci di qua e piazziamo il bianco 2 3 4 e io intelligentemente non ci sono salita facciamolo anche di qua ero verso al momento 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 ma se di qua di qua c'era faccio quindi pavimento lo dovremmo piazzare sopra allora riflettiamo un attimo il bianco anche qua 1, 2, 3, 4 1, 2 purtroppo il problema sta che io non ho diciamo non sto in il problema sta che io non sto in creativa non stando in creativa io perdo molto più tempo perché devo scendere e salire ogni volta come questo caso ah qua l'ho fatto tutto proprio bello però già diciamo in linea generale sta prendendo forma potete farvi anche un'idea di come dovrà avvenire perché è molto molto semplice vi devo dire la verità non molto articolato però a me piace spero che piaccia anche a voi magari me lo fate sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progettino e se volete vedere altri progetti realizzati insieme sempre per realizzare realizzare realizzati insieme per realizzare il nostro fantastico mondo di mini world allora io un po' di terreno ce l'ho si lo piazziamo al di fuori qui e ci alziamo un po' e vediamo se riesco ad andare meglio a realizzare le cose mamma mia pensavo che era caduta grazie a tutti